Ciao a BetTaste.it, secondo film italiano in concorso dopo The Leisure Seeker di Paolo Virzi che mi è piaciuto tanto tanto tanto, secondo film in concorso italiano, il secondo italiano forte che arriva in concorso, una famiglia, Sebastiano Riso, si era fatto notare ai tempi di più buio di mezzanotte, la sua opera prima molto amata in Francia, la Semaine de la Critique, nel 2014 non me l'ha dispiaciuto affatto, era un romanzo di formazione a tema omosessualità, scontri in famiglia, durissimo e mi aveva convinto molto, mi aspettavo tanto da Sebastiano Riso con questo secondo film, in realtà non mi è piaciuto per niente, è una storia, è un tema molto forte, molto importante, l'utero in affitto, una coppia, una coppia strana, guardate i primi minuti non sono nemmeno malaccio, perché? Perché c'è questa idea del mistero, sembra quasi una fantascienza adulta, perché c'è questa coppia in un vagone della metropolitana con all'improvviso l'idilio, sembra che stiano insieme, poi lei ha paura, ha paura che ci sia qualcuno, sono loro, sono loro, indica delle persone, sono loro? Ma chi sono loro? Solo loro sanno chi sono loro, diceva Steve Martin nel mistero del cadavere scomparso, una delle mie battute preferite della storia del Cina, di Karl Reiner, uno dei miei film preferiti della storia del Cina, e quindi noi ci chiediamo, ma perché questa donna ha rotto questi idilio, stava nel vagone della metropolitana a braccetto con il suo uomo? Perché scappa, perché va via, perché insegue queste persone, perché sente attorno a sé la presenza di qualcuno, i famosi loro? Poi dopo poco svanisce anche questo mistero che mi aveva un po' intrigato nei primi minuti, perché diventa un dramma brutto sull'utero in affitto, cioè Vincenzo, Vincenzo, perché è francese, quest'uomo e questa donna Maria, lei sforna bambini che Vincenzo vende ad altre persone clandestinamente, illegalmente, l'utero in affitto. Allora, poteva essere un tema fortissimo, è affrontato in modo molto debole, perché Patrick Bruel parla con questa dizione francese, con questo accento francese, perché è francese, in un modo insopportabile, lui era stupendo in cena tra amici, era quello che voleva chiamare suo figlio Adolfo, era tutto uno scherzo, irritando molto i suoi amici di sinistra, radical chic, e lì era strepitoso. Qua è riconoscibile, in chiave drammatica, quella era una commedia, qui è in chiave drammatica, Patrick Bruel fa questo uomo cattivo, o quantomeno questo uomo segnato probabilmente da un trauma infantile, che poi è molto chiaro quale può essere, visto l'andamento del film e visto il soggetto del film. Che cosa c'è? Perché il cuore di Van Zandt è così freddo, è così glaciale? È glaciale la fotografia, è glaciale Roma, è glaciale l'appartamento dove vivono, è glaciale la loro relazione. Michaela Ramazzotti fa sempre la borgatara in difficoltà, ansimante, e devo dire stanca moltissimo nel film, ma stanca di più questo Italiano in Francaise di Van Zandt, che sembra la copia depressa di Antonio Catania, anche fisicamente l'attore feticcio di Gabriele Salvatores, attore di grandi film italiani, e quindi non mi sono appassionato. Poi interverranno dei personaggi esterni, coppie gay che vogliono prendere i figli, il nuovo figlio di Maria, poi questi loro capiamo che sono queste persone a cui Maria comincia a non poterne più, Maria sente che vuole un bambino per sé, Van Zandt, ma Van Zandt non continua con questa sua insopportabile freddezza per tutto il film, il riso non lo mette mai in difficoltà, e non mette mai in difficoltà il film, si procede molto stancamente, meno male che dura 97 minuti, è il secondo film italiano in concorso, è forse il primo film di questo concorso, bello, perché ci stanno piacendo, a me stanno piacendo molto, oh mi sono incoglionito io, ma mi stanno piacendo molto i film del concorso e non solo di questa 74esima edizione della mostra del Cina di Venezia, il secondo film italiano in concorso è il film più brutto, fino a questo momento indifendibile, che ho visto nel concorso, lo metto insieme a Human Flow di Ai Weiwei, che mi ha irritato per altre ragioni, questo è un dramma, devo dire, molto povero e molto stanco e chiuso in se stesso, va bene? Però Sebastiano Riso mi dispiace che al secondo film, per me, questo è il mio punto di vista, poi magari vince Leone d'Oro, gli auguro di tornare perché Più Buio di Mezzanotte era un bel film, era un bel film, duro e sentivi la sua sgradevolezza, in questo film ho sentito solo l'idea di una sgradevolezza, ma poi alla fine tutto risulta estremamente stanco e vuoto, come il personaggio di Van Zan, che Patrick Bruel non riesce minimamente a, ma perché c'è il problema di sceneggiatura, c'è un problema evidentemente di direzione, Patrick Bruel gira completamente a vuoto come tutto il film. Una famiglia, Sebastiano Riso, il secondo film italiano in concorso Stecca, aspettando Palla Oro e i fratelli Manetti, che sono i prossimi nostri connazionali in concorso, qui alla 74esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Ciao, Betteist!